Ma cosa avrà detto De Rossi, molto interrogativo, dietro di questo servizio di ieri, 26 gennaio 2016, alle Iene, firmando Marco Di Vitis? De Rossi domenica scorsa si sarebbe impiegato nel dire determinate parole, probabilmente ritenute offensive, nei confronti di un giocatore della Juve, che ovviamente non sarebbe stato proprio felicissimo di ricevere quelle paroline. Da qui sarebbe nata però una nuova polemica, infatti il famosissimo calciatore della Roma, raggiunto proprio da Marco Di Vitis, quindi da una delle Iene di questo programma televisivo, avrebbe chiesto scusa e avrebbe ammesso che certe parole proprio non le si dovrebbe dire, non le si dovrebbe dare, diffondere, o se non altro che bisognerebbe in alcune circostanze copersi la bocca. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione, se in tali video fossero presenti delle inesattezze non escluso, in quanto chi vi parla non è un giornalista, pertanto escludo su di me eventuali responsabilità di qualsivoi natura. Complimenti comunque al buon Daniel De Rossi, che secondo me è sempre un gran signore, buona sempre di essere un uomo con le palle, con la grinta, con la bravura e con il carattere di sempre, un personaggio di spicco del mondo del calcio italiano. E vi saliva, iscrivetevi, commentate, se in tali video fossero presenti di santissime esclusi, in quanto chi vi parla non è un giornalista. Vi ringrazio per la visione, qui viene il si è da www.ien.medicis.it